Il settore da 5.500 forme di organizzazioni diverse, si va dalla piccola associazione no profit fino alle imprese benefit che oramai stanno prendendo piede anche nel nostro territorio. Quello dell'economia sociale è un settore sempre più di interesse ed è anche un settore che fa appunto economia. Parliamo di un miliardo e otto di fatturato e 57.000 addetti. Come Camera di Commercio siamo interessati intanto a studiare questo settore e poi anche ad individuare assieme a Torino Social Impact delle piste di sviluppo per aiutarlo a crescere e ad affrontare le sfide come la pandemia, come il digitale, come la ricerca di finanziamenti che sono all'ordine del giorno. La ricerca presentata oggi racconta benissimo un anno di profonda trasformazione sia del settore profit che del terzo settore e in particolare ci raccontano di due mondi che stanno evolvendo sul piano della finanziarizzazione, sul piano dell'innovazione, del digitale ma soprattutto che si stanno venendo incontro contaminandosi e ibridandosi.